Buongiorno mondo! Abbiamo parcheggiato Adesso andiamo verso il bar Questo bianco è 5.000 euro Tu devi andare a andare Io ci vivo tranquillo Ho già fatto la testa Si deve passare in maniera forte Capito? Non c'è 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 Prima colazione E' utile C'è il prossimo colazione Caffè? Caffè è americano Guarda se l'ho aperto del prodotto Ho chiesto il coffee Tu vuoi americano? No, coffee E tu vuoi americane? Il menù non c'è proprio Non c'è l'esistenza Ti ho detto Quel menù è dei turisti C'è solo La colazione completa Che ti danno loro Ti ho detto Sono tutto io che ero dei turisti Si Non c'è Ma ancora Io canto di qualche fora Diga Diga Adesso Vedo uno bianco o uno nero Diga 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 Nel lato Sopra E niente Andiamo Guarda io ancora finito Ci vai Guarda di là O mi goderesti 27 euro Fuori Ma è bro, che pensa alla vita mentre beve l'acqua, lui non so. Si lamenta che hanno preso due biscotti a 10 euro, quando si potevano prendere un sandwich. Cosa fanno questi? Che ansia! Ci guardano! Cosa? Cosa? My trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Believe me when it's done with our borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Che bello! Dani, non vloghi? Do you fall down? Do you fall down? Do you fall down? Do you fall down? Oh my God! The camera seems to have escaped from home With the stuff that I'm leaving Anyway I'm here in Valenciaga In Valenciaga Made in China In Valenciaga In Valenciaga Oh yeah Oh yeah Aaa They're coming They come back Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Did you make a video? chill, chill bro chill bro sta piovendo? si, si, si oh? questa cosa si è per cadere perché hai fatto cosi? oh! la prima cosa che fai è questa mi sono spaventato va bene va bene va bene va bene va bene buong files buong buong o